Fischer RC4 Workup SCM Track VS è un'uscita speciale derivato dal reparto racing per le curve brevi e dinamiche con un raggio di 12,5 metri e 66 millimetri al centro nella lunghezza di 160 centimetri. La costruzione con nucleo in legno e tecnologia Hallski per ridurre peso e vibrazioni. I sci hanno un profilo camber. Fischer toys è uno sci che mi ha stupito in positivo, vabbè a parte il colore che è bellissimo ma proprio l'ho provato in neve invernale e riuscivo anche a stare in conduzione è come non avere niente sotto i piedi, facile, gira l'ho provato sia con livello basso 4, 5 che poi appunto provando a fare un 7 e mi teneva tutto, quindi sulla neve invernale è uno sci geniale super consigliato per chi non vuole far fatica a sciarci tutto il giorno e appunto anche ti permette di progredire bene di livello e di andare a ricercare la conduzione Fischer RC4, sci da slalom nella versione donna, corrisponde perfettamente al suo intento ovvero uno sci performante, stabile, divertente, che fa curve belle strette però allo stesso tempo non è così irruento come uno sci da slalom maschile o unisex non ti dà una risposta elastica esagerata quindi sicuramente da consigliare ad un pubblico L6 e L7 che ama sciare di qualità, quindi magari ovviamente facendo tante curve non è data a sciare tutto il giorno perché ci si stanca però allo stesso tempo che sia facile e governabile Ha rispettato le aspettative, è uno sci da donna ma nonostante questo è veramente molto stabile molto divertente, è maneggevole ma allo stesso tempo non risulta ballare in qualsiasi momento della curva ma è divertente soprattutto nell'arco corto, infatti è un raggio 12 lo consiglierei a una donna esperta ma anche a partire da un livello 5-6 fino ad arrivare appunto al livello 7 a partire da un'arco corto, infatti è un'arco corto, infatti è un'arco corto, infatti è un'arco corto